Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e nuovo volo con il Marichel. Oggi è una destinazione completamente diversa dal solito, sì perché oggi ci troviamo in Toscana, precisamente a Castiglione della Fiscaia, e adesso andiamo a vedere un edificio si chiama la Cata Rossa di Semenes. E' stato costruito questo edificio per, diciamo, gestire il territorio del russo delle acque, una produzione ingegneristica veramente particolare e soprattutto molto particolare per quegli anni, perché veramente è affascinante vedere come era stata pensata la gestione delle acque. Quindi adesso, senza perdere altro tempo, destinazione Casa Rossa Semenes. Ok ragazzi, siamo arrivati. Adesso prepariamo tutto e facciamo volare il Marichel. Ciao. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti